La Corte di Giustizia dell'Unione Europea si è pronunciata sul monopolio dell'UEFA e della FIFA, dando ragione alla Superlega. La Corte di Giustizia dell'Unione Europea è la notizia principale del giorno. Buonasera e ben ritrovati al consueto appuntamento con il TMV News. Di questo parleremo e di tanto altro ancora prima di passare ai principali temi che coinvolgono la Serie A il giorno dopo della vittoria del Bologna a San Sirio in Coppa Italia. Iniziamo a parlare della questione Superlega e di altro ancora con un giornalista, nonché editorialista di tuttomercatoweb.com come Carlo Pizzigoni. Buonasera Carlo e benvenuto. Buonasera a tutti, ciao ragazzi. Volevo affrontare con te tre macro temi che riguardano il calcio di oggi. In primis la notizia di giornata, cioè la sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea che ha di fatto sancito il monopolio UEFA e FIFA e quindi dato ragione alla questione Superlega. Che idea ti sei fatto di tutto ciò che è successo attorno a questa storia e da che parte ti schieri? Un'opinione in generale? Ma guarda, secondo me si sta facendo un po' troppo confusione su questa sentenza. Non c'è nessun tipo di questione legata alla Superlega come ce l'hanno raccontata ma sostanzialmente l'idea è, anzi la sentenza dice che UEFA e FIFA non potranno agire in forma esclusiva soprattutto nella raccolta di, nella vendita di diritti televisivi che è la chiave un po' di tutto. Non potranno esclusivamente organizzare i campionati ma se qualora volessero alcuni club possono organizzare i loro tornei e questo è il vero cambiamento della situazione. Nulla di più. Quindi potrebbero nascere diverse Superleghe. Non è detto che nasca questa, giustamente però questa Superlega che abbiamo conosciuto e che ha cambiato un po' tre o quattro volte proposta però in questo momento ha colto la palla al balzo perché insomma mediaticamente era giusto evidenziare il fatto che in qualche modo il grande nemico, come loro inquadravano UEFA e FIFA, è stato diciamo così in qualche modo sconfitto ecco anche se non è il termine giusto dalla Corte di Giustizia Europea. Quindi da adesso in avanti non saranno più UEFA e FIFA a condurre le danze ma potranno anche esserci altri, altri player o società legate ai grandi club. Insomma quindi da qui escono vittoriosi i club da questa sentenza. In tal senso tanti addetti ai lavori come per esempio Giovanni Malagò, tanto per citarne uno, il presidente del CONI, ma anche il ministro dello sport Andrea Bodi hanno sottolineato che diventa adesso importante proteggere i campionati nazionali. E alcune squadre hanno anche agito prendendo subito le distanze da una ipotesi di nuova Superlega come per esempio il Bayern Monaco, tanto per citarne uno dei più grandi. C'è il rischio che la sentenza di oggi della Corte Europea possa interferire con gli equilibri attuali del calcio europeo? Sicuramente cambieranno tante cose, però quello che si sta sentendo adesso è puramente propaganda politica nell'ottica di un rincontro a breve e di una situazione legata al fatto che non saranno più loro a organizzare tutto. In questo momento io penso che ci siano mosse strategiche da parte di tutti, sia dalle leghe, sia da organismi legati ad altri sport come il CONI, non c'è questione sicuramente di protezione. Adesso c'è molta propaganda in giro come naturale che sia, però diciamo nelle segrete stanze ci saranno sicuramente incontri tra responsabili delle grandi leghe, responsabili di nuovi sponsor, eccetera. Per creare delle piattaforme nuove. Sicuramente le situazioni cambieranno, ma non cambieranno domani, quindi ci saranno grandi trattative. E questa era la notizia del giorno. Mentre è stata notizia di pochi giorni fa la vittoria di Juan Romano Riccherme alle elezioni come nuovo presidente del Boca Juniors, un argomento che hai trattato anche sulle pagine di tuttomercatoweb.com e sono state elezioni abbastanza turbolente. Nelle scorse settimane c'erano state anche l'intervento di alcuni giudici, diversi attriti tra lo stesso Riccherme e Macri, l'altro candidato alla presidenza. Volevo chiederti un parere su come è andata poi a finire la vicenda da parte tua, che l'hai seguita in modo vicino, e se per le sorti del Boca, a tuo parere, la vittoria di Riccherme possa dare grossa speranza ai tifosi appunto dello stesso Boca Juniors. Ma anche qui era una lotta di potere. Certo, la lotta di potere di Riccherme era una lotta di un giocatore simbolo del club che desidera gestire il club. Dall'altra parte c'era secondo me una mescolanza politica piuttosto sospetta, però Maurizio Macri è stato uno dei presidenti più importanti della storia del Boca, forse il più importante, e in questo momento voleva rientrare come vicepresidente in realtà, anche se poi sappiamo che il presidente sarebbe stato Ibarra, ma la verità è che avrebbe già chiaramente gestito Macri la situazione. Macri, vedendo la mala parata, non si è nemmeno presentato a votare, quindi evidentemente questo è un aspetto chiave della situazione, però il Boca, la squadra più importante dell'Argentina, insieme a River, in questi anni è stato gestito, probabilmente con qualche errore da parte di Riccherme, però Riccherme ha voluto iniziare il fatto che questa votazione era una votazione in favore dell'ince del Boca, in favore del tifoso, perché con la sua presidenza, chiamiamolo di garanzia, saranno sempre i tifosi a essere presi come punto di riferimento, mentre è riuscito a far passare la narrazione che sarebbe intervenuta la politica a gestire il club, perché sappiamo che il presidente della Repubblica Argentina di Emilia è appena eletto, è andato a votare, tra l'altro alla Boca è stato anche fischiato e appoggiava palesemente il candidato, il ticket Ibarra Macri, quindi la cosa incredibile è che all'interno di questa lotta c'è stata una sconfitta di un presidente della Repubblica appena eletto, perché la Repubblica della Boca ci dichiara evidentemente indipendente, però sulla prospettiva del Boca, da qui a breve non possiamo dire, sappiamo che con Riccherme comunque c'è stata un'attenzione maggiore al settore giovanile, che ha prodotto diversi calciatori in questi ultimi anni, e come risultati sportivi qualche campionato, ma non quello che si cercava, cioè la Coppa Libertadores, perché c'è stata la sconfitta in finale e l'ulteriore beffa del fatto che l'anno prossimo il Boca non parteciperà alla Coppa Libertadores, non si è qualificato. E a tal proposito di Coppa Libertadores, l'altro grande tema che volevo affrontare con te è che domani va in scena la finale del Mondiale per Club, tra il Manchester City, campione d'Europa, e il Fluminense, campione del Sud America per la prima volta nella sua storia. Volevo chiederti se hai seguito un po' il Mondiale per Club, un tuo parere sulla competizione e soprattutto dalla parte del Fluminense che cosa significa la partita di domani, perché per il Fluminense è stato un anno appunto storico, per la prima volta nella sua vita si è laureato campione del Sud America e domani affronta il Manchester City per giocarsi il titolo, quindi una sventagliata anche sul Fluminense ma sulla partita, sulla finale. Sì, sì, ho visto le partite, le due semifinali non sono state facili perché il Fluminense ha incontrato il campione d'Africa della Lali, mentre il City di Guardiola ha giocato contro i giapponesi dell'Ulava Rez, due partite ovviamente condotte dalle squadre principali però hanno fatto un po' di fatica a vincerla, queste poi le hanno totalmente meritate. Si arriva alla finale più attesa, quella classica, Europa-Sud America, il Fluminense, come hai detto tu, si arriva con tanta voglia anche di dimostrare che il calcio brasiliano è vivo, il tecnico del Fluminense, tra l'altro è anche presentatore nazionale brasiliana, di Nice, sono entrambi portatori, anche con stili un po' diversi, di Nice e di Guardiola di questo calcio cosiddetto della modernità, quindi sarà bello anche vedere la sfida, naturalmente il City è favorito, però sono un aspetto importante per vedere come comunque il continente sudamericano, oltre a produrre talento, oltre a essere il maggiore produttore di talento del mondo, il Brasile ancora di più, perché tantissimi giocatori vengono a giocare anche in Europa, ma anche all'avanguardia dal punto di vista strategico, tattico, e questa cosa è importante, la partita spero sarà equilibrata, dovrà certificare anche questo. In più c'è anche riconoscimento a un tecnico come San Denis, che è stato un tecnico più volte bistrattato, ma che invece con la vittoria della Libertadores, in generale con questo suo percorso al più, secondo me ha mostrato come è davvero un tecnico molto interessante, soprattutto non solo per come fa giocare il suo squadro, che quello lo vediamo tutti, ma anche per le sue conferenze stampa, per come fa comunicazione al di fuori, e ci vorrebbero davvero tanti di Nice in questo mondo del calcio, cioè persone che sanno spiegare qual è il valore del calcio, che nasce dal territorio, nasce dal sacrificio, nasce quello che in questi giorni tanti si vogliono affrontare di quell'etichetta di calcio della gente, ecco, con di Nice quell'etichetta è perfettamente rispettata. Per chiudere, quindi, vedresti per queste doti che hai snocciolato finora un futuro per di Nice, tolta la panchia del Brasile, anche in Europa e in tal senso anche per qualche giocatore tra quelli giovani rampa di lancio del Fluminense? Sicuramente sì, sappiamo che Andrè, il giocatore principale della squadra, ha già avuto diversi contatti con la Premier, c'è stato offerto il Liverpool, si parla di Nottingham Force, sicuramente la Premier, ma saranno tanti, come è sempre accaduto, produce tantissimo a livello giovanile e anche per di Nice sicuramente l'esperienza europea potrà arrivare, magari chissà, una volta anche Pep Guardiola potrebbe andare dall'altra parte dell'erocchio, è un attività che lui ha detto una volta, mi piacerebbe allenare una nazionale sudamericana, chissà se avverrà, anche se credo che sia difficile, però insomma il fascino del Sud America richiama anche un elemento come il Pep Guardiola, probabilmente il miglior allenatore della storia del calcio. Eh sì, e staremo a vedere come andrà a finire. Carlo Pizzigoni, grazie per essere stato con noi, ci troviamo in un prossimo appuntamento, buone feste e alla prossima! Buone feste a tutti voi, un abbraccio, ciao ragazzi! E dopo la sventagliata che ci ha regalato Carlo Pizzigoni sui principali temi del mondo che riguardano il pallone, passiamo appunto alla Serie A, in particolare anche alla Coppa Italia col Bologna che ha fatto fuori l'Inter a San Sirio e ai quarti di finale troverà la Fiorentina e lo facciamo con un ex calciatore di Serie A, di Fiorentina, Udinese e Atalanta, tra le altre, come Andrea Lazzari, buonasera e benvenuto! Buonasera, grazie a voi per l'invito! E veniamo da una notte di Coppa Italia che ci ha regalato il Bologna ai quarti di finale, ha battuto l'Inter a San Sirio, ai quarti troverà la Fiorentina, Bologna che dai più è evidenziato come la sorpresa di questa Serie A, sta lottando addirittura anche per la Champions League. Volevo chiederti un parere sulla squadra di Tiago Motta, anche sui singoli, se ti ha dato qualche spunto o ti ha stupito qualcuno in particolare, le riflessioni principali sulla squadra bolognese? Intanto sta facendo un ottimo campionato, si ritrova quarto in classifica e quindi credo che il lavoro di Motta stia dando i suoi frutti, credo che è più una questione corale di tutta la squadra che sta facendo bene, non di un singolo giocatore. E riguardo alla classifica, tu hai citato giustamente il quarto posto, secondo te può giocarsi addirittura anche la Champions fino a fine campionato, considerando che qualche big non sta facendo molto bene, ad esempio la Lazio si ritrova a metà classifica, tanto per citarne una. Ma è dura dirlo, perché comunque è un campionato lungo, difficile, le squadre comunque vogliono sempre migliorarsi, ovviamente adesso che si trova in quella posizione è giusto continuare su quel trend e poi si vedrà alla fine o nei mesi o nelle giornate poco prima che finisca il campionato, se continuare a credere in quel sogno Champions oppure magari anche all'Europa League. Bologna che tra pochi giorni si riaffronterà l'Atalanta, di cui sei stato un ex. Volevo chiederti un paere sulla squadra di Gasperini che è agli ottavi di Europa League, quindi ha evitato i play-off, in campionato sta lottando per i posti europei, rientra tra le squadre in lizza per la Champions, nell'ultima giornata europea ha buttato dentro anche tanti giovani, per esempio Del Lungo, tanto per citarne uno del 2003. Che cosa ne pensi della squadra di Gasperini, secondo te a che cosa può ambire quest'anno? Sicuramente può ambire anche l'Atalanta a una posizione di Europa League, è qualcosa sicuramente di più, ha avuto un avvio magari non proprio bellissimo, o come magari si aspettavano i più, però adesso è in netta ripresa e lo sta facendo vedere con le prestazioni che mette in campo. E uno dei giocatori che è in netta ripresa di Bergamaschi è proprio Luis Muriel, che nell'ultimo periodo ha messo a segno diversi gol, anche quello pregiato e che ha dato la vittoria sul Milan, è un giocatore fondamentale da ritrovare per la squadra di Gasperini e in generale se c'è qualche singolo degli aerobici che ti ha colpito tra i giovani ma anche tra i senatori? Ma è sicuramente Luis, non lo scopro certo io, io ho avuto la fortuna invece di giocarci insieme a Udine e ha delle qualità veramente fenomenali, se sta bene può fare la differenza in qualsiasi squadra e l'ha dimostrato con il gol contro il Milan, il gol in Coppa e quindi è un giocatore fantastico. Ecco, proprio perché ci hai giocato assieme mi viene da chiederti, il suo limite in carriera è sempre stato un po' la continuità, perché a livello di doti tutti l'hanno sempre dipinto come un giocatore fantastico, tante volte è paragonato anche a Ronaldo il fenomeno nelle movenze addirittura, quindi mi viene da chiederti come mai secondo te, visto che hai condiviso lo spogliatoio, che cosa gli è mancato in tutti questi anni di carriera per consacrarsi definitivamente? Ma credo che sia mancato forse la consapevolezza e la fiducia forse che sente magari in questo periodo dove sta facendo bene, in tratti del campionato magari sente meno questa fiducia da parte del mister che magari non lo fa partire sempre tutte le partite titolare e questo potrebbe incidere un po' sul rendimento e sull'umore del giocatore. Cambiando squadra, passando anche a un'altra ex di quei vestiti colori, l'udinese si ritrova soltanto un punto sopra la zona retrocessione dopo un mercato un po' turbolento che ha visto per ieri a svincolarsi e poi alla fine restare a Udine, Samaric è ceduto all'Inter e poi non concretizzato il passaggio in erazzurro, rimanere anche lui a Udine. Cosa ne pensi della stagione che sta vivendo la squadra di Cioffi tra l'altro tornato sulla panchina dei bianconeri? Sì, c'è un po' di confusione tra virgolette, che magari non c'è quella serenità che si può avere quando hai magari una squadra già quasi completamente fatta all'inizio della preparazione, quindi puoi lavorare con tutto l'organico a disposizione. Questi cambi in panchina ovviamente destabilizzano anche un po' l'ambiente e i giocatori stessi perché poi le idee degli allenatori sono diversi e quindi stanno attraversando un momento un po' buio, tra virgolette, però l'Udinese è una società che è sempre a livello organizzativo e di programmi al top, perciò credo che ne usciranno tranquillamente da questa situazione. Quindi mi pare di capire che a tuo parere si salverà l'Udinese, anche perché qualora non fosse così sarebbe una retrocessione anche abbastanza clamorosa, vista le squadre che lottano per salvarsi e l'organico di cui dispone l'Udinese. Sì, sì, secondo me hanno tutte le carte in regola per salvarsi anche facilmente. Andrea Lazzari, grazie per essere stato in nostra compagnia, ti auguriamo una buona serata e ci ritroviamo in un prossimo appuntamento. Grazie a voi e buone feste a tutti. Con i pareri di Andrea Lazzari sui principali temi che toccano il nostro calcio, che alle porte del Natale si appresta a giocare un'altra giornata di Serie A, si chiude anche il consueto appuntamento con il TMV News che tornerà come sempre domani in una nuova edizione. Grazie e buona serata. Grazie a tutti.